Milan-Napoli per la storia, atmosfera in città. San Siro sarà uno spettacolo questa sera. È previsto un altro sold out e questa volta non si è arrivati nemmeno alla vendita libera. Biglietti polverizzati, come i 3.500 venduti online riservati ai tifosi del Napoli che riempiranno il terzo anello verde riservato agli ospiti. Altri 500 circa saranno sparsi nello stadio con biglietti per altri settori, e molti altri sono partiti per Milano senza biglietto. Cosa che preoccupa un po' le forze dell'ordine. La città ribolle dalle prime ore del pomeriggio. Il cielo è grigio e minaccia pioggia, forse arriverà in serata, ma nessuno se ne preoccupa. I tifosi del Napoli stanno arrivando in autonomia in treno, in pullman e in macchina. Non ci sono infatti charter organizzati. Attesa incredibile C'è tanta attesa per uno spettacolo incredibile per 75.000 fortunati che potranno goderselo dal vivo.